Quello sono io. Quando mi chiedono una mia foto e non specificano se debba essere recente, ne scelgo sempre una dove sono venuto benissimo. Sono un fotografo professionista con un hobby importante, cioè la fotografia. Non sono molto bravo a parlare delle mie foto, perciò preferisco mostrarle e raccontare aneddoti sui luoghi o le circostanze in cui le ho scattate. Comincio con qualche cane. Scatto molte foto ai cani perché mi piacciono e perché non si oppongono alle fotografie. E poi non ne chiedono una copia. Qui siamo in Inghilterra, alla mostra canina più prestigiosa del mondo. Si giudicano 25.000 cani in quattro giorni. Questo è un mio vicino a New York, un cane da lavoro. Questo è il mio cane. Sammy. Io abbaio ai cani e a volte loro reagiscono in modo strano. In questo caso, ogni volta che abbaiavo, il cane saltava. مثolo nowadays. È un po' di storia. един'unico e il cane è un po' dizza. iniciativa per il cane il cane avromere. Un'unico e il cane.